Per coloro che hanno oltre 70 anni e necessitano di venire irrigati da un fluido umano e ringiovanente, vicito Marsilio Ficino, si può sfruttare un altro ingrediente, oltre al sangue. Sono Alessandra del canale Polvere di Teschio e state ascoltando Del corpo umano non si butta via niente, un podcast dedicato alla storia della medicina cadaverica in Europa. Nell'episodio precedente avevamo parlato del sangue come suprema fonte di vita e ingrediente curativo forse più simbolico fra tutti. Marsilio Ficino, come vi accennavo all'inizio, suggerisce anche un altro ingrediente. Per ottenerlo è necessario scegliere una ragazza pulita, bella, calma e allegra e, nelle notti di luna crescente, per il latte direttamente dal suo seno. Se questo vi ricorda le cure molto simili a base di sangue, quelle che abbiamo visto nell'episodio precedente non è un caso. Il latte materno era ritenuto sangueschiarito, il che non solo mette in una prospettiva interessante l'atto di nutrire i bambini e il latte stesso, ma si incastra alla perfezione in una società che considera il sangue una cura miracolosa. Perché mai dovrebbe essere strano bere il sangue per curarsi di malattie difficili, rare o senza speranza, quando si è stati allevati a base di sangue sbiancato? Come il sangue, il latte si usa quindi per allungare la vita delle persone anziane, ma non solo. Dal XIV al XIX secolo era utilizzato per curare la tubercolosi e John French, autore di un trattato sulla distillazione pubblicato nel 1651, consiglia un remedio a base di latte materno e zinco, ridotto in cenere, per ricavare un composto con cui lavare gli occhi infiammati. L'uso come cura per gli occhi era particolarmente diffuso, sia per gli occhi stanchi che per condizioni molto più debilitanti come la cataratta. Pare che fosse anche utile per agevolare un parto rapido e conciliare il sonno. Lo si utilizzava sulle scottature e anche per curare la sordità. Il latte appare in diverse ricette di bellezza, oltretutto, in modo da mantenere la pelle bianca e radiosa. C'è una ragione per cui ho deciso di parlare anche del latte in quest'ultimo episodio conclusivo, al di là del fatto che veniva simbolicamente considerato sangue. Anche se tecnicamente, come poteva esserlo il sangue del salasso, non implica la necessità della morte della persona che ha fornito la cura, rimane un elemento importante da considerare, la disuguaglianza sociale. Senza mettere in gioco i corpi sepulti da secoli e le mummie, quelle vere, quelle antiche di milaia di anni, non i falsi, gli ingredienti della medicina cadaverica derivavano da corpi di persone di bassa classe sociale, i condannati a morte, le vittime di battaglie e omicidio, i poveri disgraziati. Il grasso umano in Germania veniva chiamato armesunderfett, ossia grasso del povero peccatore. Le persone senza scrupoli che uccidevano per trasformare i mummie contraffatte, i poveri disgraziati, o che li trasformavano nelle mummie predilette dai seguaci di Paracelso, mummie quindi ricavate da persone giovani e morte di recente, uccidevano quindi i poveri, i miserabili, coloro che nessuno sarebbe venuto a cercare. Anche il latte materno derivava da un sistema di sfruttamento. La ricca signora del Seicento, che si spalmava il latte materno sul viso per restare belle e giovane, non avrebbe mai utilizzato il proprio. In effetti, non lo utilizzava nemmeno per nutrire i propri figli. Per chiunque se lo potesse permettere, le balie in passato erano molto comuni, ed erano solitamente loro la fonte del prezioso liquido medicinale. L'aristocrazia, poi, tendeva a tenere queste balie proprio presso la loro abitazione, per motivi facili da immaginare. In questo modo, però, avevano anche sempre a disposizione una fonte di latte a scopo medicinale, una fonte che non avrebbe di certo potuto dire di no. Continuava, dunque, il curioso paradosso per cui i ricchi, che non esitavano all'autorizzare i più poveri, che li consideravano magari una cura miracolosa, erano in realtà resti, però, di persone che non avrebbero nemmeno degnato di uno sguardo quando fossero stati vivi nel corso delle loro giornate. Il latte materno non è l'unico ingrediente di derivazione umana che può essere prelevato senza conseguenze dal corpo. Nel corso dei secoli, in Europa, si possono trovare ricette sia mediche sia di bellezza a base di urina, feci, saliva, sudore e capelli. Non ne parlerò in questa sede, ma vale la pena ricordarli, perché ci aiutano a costruire una prospettiva di secoli fa. Il senso del disgusto e dell'igiene sono cambiati molto nel corso dei secoli e possiamo immaginare che tra 200 anni alcune delle nostre pratiche mediche quotidiane saranno considerate una barbarie antiquata, come noi adesso vediamo i salassi o le cure basate sulla teoria degli omori. Spero. Con il passare del tempo, in modo diverso e in tempi diversi, le cure proposte dalla medicina cadaverica perdono via via la loro importanza. Con il progredire della scienza e le nuove scoperte si può arrivare alla radice delle malattie e delle infezioni in un modo mai immaginato prima, condannando molte di queste pratiche all'estensione. Ci mette il suo anche l'illuminismo, che non esita a relegare queste pratiche a superstizioni medievali, nonostante fossero in uso ancora nel suo tempo o lo fossero stare fino a pochi decenni prima. Rispetto a tante pratiche e usanze che ci fanno ribrezzo, paura o generano in noi quel senso di pacifica gratitudine che si prova a essere nata in un altro secolo, la medicina cadaverica ha un posto nella storia minuscolo. Potremmo dire che i tentativi dei secoli passati di nasconderla sotto al tappeto della storia della medicina sono stati efficaci, al punto che Richard Sugg, uno degli autori dei testi più influenti dell'argomento, racconta di aver pubblicato articoli sulla medicina cadaverica in diversi giornali destinati al grande pubblico ed aver ricevuto diversi commenti perplessi e increduli quando non direttamente convinti che le sue fossero vere e proprie menzogne. Possiamo accettare le condanne a morte eseguite a colpi di spada, la sporcizia, le pestilenze e le difficoltà delle persone del passato, anche grazie all'immaginario cinematografico, per quanto impreciso, ma non possiamo accettare che grandi re, estimate regine, saggi uomini di chiesa, compassionivoli confessori e nobildonne affette da depressione potessero trovare sollievo nutrendosi di parti umane o applicandole come impacchi. Accettiamo tutti gli orrori, ma non ci rendiamo conto che il cannibalismo è stata una pratica quotidiana per secoli, anche nel razionale e affascinante Rinascimento e nei secoli successivi. Le farmacie che fanno sfoggio di arredi in legno scuro e vase di ceramica con gli ingredienti scritti in latino non espongono quelle dove vi è indicato il nome latino per il grasso umano, la mummia o la polvere di teschio, ma se fate un giro al museo di storia della farmacia a Cracovia le potete vedere. Ti fanno un pezzo di mummia e altri ingredienti che testimoniano il caparbio tentativo dell'umanità di restare viva più a lungo, costi quello che costi. Avete ascoltato Del corpo umano non si butta via niente del canale Polvere di Teschio a cura di Alessandra. E vi ricordo che ciò che riporto qui è solo per interesse storico. Non fatelo a casa!